Ciao a tutti ragazzi sono Perionate5Vita e in questo nuovissimo video finalmente apriremo il box di Dragon Exalted Da voi molto atteso e anche a me molto atteso perché non vedo l'ora di aprire questo fantastico box Che ci riserverà delle belle sorprese sicuramente Speriamo di trovare delle belle ex e delle belle full heart Ma non stiamo qui a perdere tempo iniziamo subito con il primo pacchetto di Raiquaza Eccolo qua Ok facciamo così Forbici Ecco qua uno Così Ecco qua Forbici Apriamo il primo pacchetto Ok Codice online Facciamo qua Qua va il trick Uno due tre Uno due Ecco Vediamo un po' cosa ci riserva Un bel Ravlet Bellissimo ragazzi Un Wampol Driflorn Dino Nospas Tuskeper Roselia Stuncan La diversa è Roselia e la rara è Un Dustox Bellissimo Ok Il primo pacchetto E No Ok Tienile qua Gabriele Sono i compagnieri di mio fratello Ora Aprilo te Gabriele che il box dovete sapere che è suo Tieni aprilo Dovete sapere che il box è suo Io lo apro perché Lo vogliamo caricare qua Andiamo un po' Vero Gabriele Ok Gabriele ce la fai apri questo pacchetto qua Ecco Grazie Gabriele Ok Secondo pacchetto Fatto Codice online Qua Uno Due Tre Uno Due Vediamo un po' Un altro Nospas Vulpiz Aron Timpon Swablo Un altro Swablo Silcon Bellissima ragazzi Bellissima Oh ragazzi c'è qualcosa C'è qualcosa Strenius La reverse è magnetic Fantastico E Registil X Ragazzi Registil X Secondo pacchetto Già una X Guarda fantastica Gabriele Guardala Fantastica Una X Stupenda Stupenda Ragazzi Non volevo trovare questa X Perché Purtroppo Me la doveva dare Dade Pock Ma purtroppo Avevo detto che me la poteva mettere da parte Ma tanto che me la mette a fare Che l'ho trovata E vabbè Terzo pacchetto Quanti Quanti ne dobbiamo aprire in questa puntata Gabriele Vabbè Ne apriamo un po' Apriamo Da calma Mi sa che ne dobbiamo aprire sette Sì sette ne apriamo in questa puntata Allora sbrighiamoci Il video dura tantissimo Di nuovo Codice online Uno Due Tre Uno due Bidu Rafflet G-Bot Puizel Aron Resque Scaff Emolga Stumpfish Aron Reverse Anfarosolo Ragazzi Fantastico È bellissimo Anfarosolo Ragazzi Una carta Spettacolare Madonna Sto box Mi sta davvero piacendo Ragazzi Proprio le carte Che speravo di trovare Vero Gabriele E continuiamo Col prossimo pacchetto Rai Quazza Sì sì Questo box Per ora Non c'ho niente da dire Mi piace proprio Proprio un bel box Di nuovo Codice online Uno Due Tre Uno Due Ecco Mincino Fungus Spear Driflon Stanky Bufalant Durant Maractus Rongerola Reverse Un Braviari Bello Bello Bella carta Dieni a te Gabriele Che sono due Ecco qua Vai Con il Quinto pacchetto Il quinto pacchetto Vero sì Quinto pacchetto Mamma mia Che box Ragazzi Che box Apriamo Gioco online Uno Due Tre Uno Due Ragazzi Mi sa che c'è qualcosa pure qua Eh sì ragazzi C'è qualcosa Go Tita Gole Electra Deino Baltoi Nislash Thor Suelius Stunk La reverse La rare Un Rayquaza Ex Ragazzi Rayquaza Ex Mamma mia I primi pacchetti Già due Ex Ragazzi Guarda che roba Guarda che roba Bellissima Ragazzi Una ex Fantastica Mamma mia Ragazzi Che Che pacchetti Che pacchetti Ma che strano Già le prime Overture Già due Ex Vabbè Abbiamo fatto I cinque pacchetti Ragazzi Penso che Per oggi A noi ci può bastare Dai Apriamo un altro Dai Sti cavoli Apriamone un altro Faremo sei puntate Così Mamma mia Ragazzi Non ci possiamo Proprio lamentare Oggi Che strano Però Già due Ex Bah Allora Codice online Uno Due Tre Uno Due Uno Due Si Pensavo di aver spattagliato Il trick Houndom Marip Nospas Fibas Cubon Emolga Tror Swillius Con questo simbolino Che è fantastico Nis Laceversa Allora eh Uh Wailordolo Ragazzi Mamma mia Che pacchetti Ragazzi Bellissimi E Basta La parte è finita Federico vi saluta Mi raccomando Mettete un bel pollice in su Per questo box Che Che è molto Stato molto bello Moltissime sorprese E Che dirvi E Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Guardate le altre Le altre aperture Il prossimo Le prossime parti Mi raccomando Guardatele Mi sembra che faremo Sei parti E Vabbè Federico vi saluta E al prossimo video Ciao